Ci sono dei comitati di cittadini che ci hanno avanzato un bellissimo progetto del quale ha parlato anche il ministro Franceschini che a noi vede assolutamente d'accordo e che discuteremo sia col comune di Roma che con le sovrintendenze che con il comune di Fiumicino di dare vita a una sorta di grande parco archeologico del litorale. Ieri c'è la bellissima notizia della forza di Ostia Antica come polo di accoglienza culturale e noi creiamo che unendo quella e mettendo in relazione ancora di più quel sito con altri siti archeologici vicini noi potremmo arricchire non di poco l'offerta archeologica del nostro territorio. Ne parleremo ovviamente con le sovrintendenze e con i comuni ma la regione si farà promotrice di questo bel progetto aperto a tutti gli attori interessati.